Il 12 giugno scorso si è verificata la scomparsa di Silvio Berlusconi. La sua morte ha suscitato una grande commozione sia nei media che, soprattutto, nel figlio Pier Silvio. Nel momento del lutto, Silvia Toffanin, da lungo tempo legata a Pier Silvio, figlio dell'ex politico, ha voluto rendere omaggio all'illustre defunto. La conduttrice ha sempre mantenuto un forte legame con il suocero e i due hanno sempre avuto un ottimo rapporto. È interessante ricordare che Silvia Toffanin, ospite di Fiorello alcuni anni fa, ha svelato un particolare inaspettato riguardo al defunto suocero Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso 12 giugno. Infatti, la conduttrice ha raccontato che con i suoi nipotini l'ex presidente del Consiglio si lasciava coinvolgere in scherzi giocosi, vestendosi da Babbo Natale o addirittura da Spider-Man, per regalare loro un sorriso. Questo mostra un lato dolce e tenero del fondatore di Mediaset che ha fatto sorridere tutti. Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, coppia da 21 anni e genitori di due figli, non hanno ancora deciso di unirsi in matrimonio. Tuttavia, Berlusconi avrebbe detto al figlio, esbrigati a metterle l'anello al dito. La loro è una famiglia in cui si respira un profondo affetto reciproco, come dimostrato più volte dalla coppia. Ricordati di lasciare un like e di iscriverti al canale per non perderti le prossime notizie.